Una bambina con dei superpoteri, Super Gaia, è un'aquila, simbolo della regione, un'aquila un po' sbadata, che al contrario della caratteristica di avere una grande vista. Sono i due protagonisti di Super Gaia e l'Aquila Stella, un fumetto realizzato dalla regione che sarà distribuito nelle scuole in 140.000 copie. Stampato nelle quattro lingue parlate in Friuli Venezia Giulia, italiano, friulano, sloveno e tedesco, il fumetto si propone uno scopo palesemente educativo. Logicamente in un contesto leggero, sviluppato su tematiche suggerite dalla stessa regione. Può diventare anche uno strumento per incentivare nelle nuove generazioni quel cambiamento culturale di cui abbiamo tanto bisogno per una transizione ecologica verso anche un cambiamento climatico. Alla base l'idea che i ragazzi diventino i migliori ambasciatori per quel che concerne determinate tematiche presso le proprie famiglie. Con i giovani parliamo solo del futuro e quindi un futuro e uno sviluppo sostenibile che sono gli obiettivi della nostra missione in regione.